bella regà qua Alem e bentornati in questo nuovo video oggi siamo sul secondo vlog che faccio una settimana si ho deciso di fare questi vlog ogni settimana risponderò alle vostre domande che lasciate sotto nei commenti parlerò del canale come va se va bene o se va male che ne so niente io dovrei iniziare a leggere subito le domande che ci avete fatto regà comunque i commenti leggo man mano che che vedo dal telefono quelli che ci stanno e rispondo dai niente pro snake mi dice se ho mai provato a giocare a calcio con le stampelle niente la mia risposta è no non ci ho mai provato perché alla fine non ci ho mai avuto bisogno per fortuna ed è ancora che speriamo che mi devo mettere stampelle quindi ancora non ho mai provato e spero non lo proverò Alex il mio moderatore mi chiede quante ragazze ho mai avuto e la mia risposta è non mi ricordo fammi pensare essendo amico di rock così freddi come dite voi nelle live direi 29 e invece no ce l'ho solamente una e l'ho avuta una e ancora ce l'ho tuttora e niente per fortuna non ho mai avuto relazioni inutili in senso che mi ho messo una e poi magari l'ho lasciata una settimana dopo un giorno e niente c'è avuto una ragazza che avevamo più di tutto il mondo e niente c'è avuta lei e basta seconda domanda di Alex aveva infranto un po le regole però vabbè che mi chiede se ho mai marinato la scuola la mia risposta è sì però perché ho fatto cioè sono andato con amici miei al centro di roma e abbiamo giocato un po' lago e mo presi i go kart quelli la be che bella pedali e ti diverti siamo andati abbia fa colazione al me così però non è che sono andato la e bacia io gli ho detto a mia madre ma io oggi in cia da scuola e vado con loro la centro invece da una scuola sono dalla non è proprio marinato perché in teoria dovrei non dirlo a mia madre però io c'è una madre che mi dice dai se vuoi puoi anche andarci senza che mi dici per forza cioè senza che mi dici le minchiate basta io dico e mi dice va bene cioè per il giorno due tre ho posso fatto durante l'anno terza domanda più Alex che mi dice niente non ho più idee Alessandro altro moderatore mi chiede se ho mai dormito più di 24 ore e beh non ho mai dormito penso più di 24 ore anche se è bello dormi tanto ma quando si svegli stai stanchissimo cioè più dormi più sei stanco ho dormito penso al massimo 14 ore per ditte 15 ore massimo proprio la domanda più importante di oggi me la dice simone il mio moderatore sempre e mi chiede se farò mai un video con Rocco e sappiamo quale Rocco spero di no perché se si tratta di un video con Rocco non sarà mai una delle migliori cose quindi spero di no Matteo mi chiede quale sarà il mio obiettivo su youtube quest'anno niente il mio obiettivo alla fine dipende anche da voi cioè se voi mi seguite abbastanza e costantemente io continuo a salire dei scritti e delle visualizzazioni anche dei spettatori live perché faccio spesso le live e questa cosa mi piace anche alla fine se siamo quattro io mi diverto e quindi la fine l'obiettivo principale non ce l'ho cioè a me non mi interessa che c'è un milione di scritti tra una settimana cioè è importante salire piano piano anche avere 10 spettatori domani dopo domani 15 così piano piano e questo alla fine è il mio piccolo obiettivo e niente ragazzi spero di aver risposto abbastanza domande e sto piccolo video alla fine di 5 minuti così spero non tanto perché magari poi annoio niente ragazzi seguitemi soprattutto in live voglio più spettatori possibile vi ringrazio molto del supporto seguitemi qua sotto sui social se volete e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale e non ci vediamo al prossimo video che bella ria che bella ria